Salve a tutti ragazzi, eccoci qui oggi con un nuovo video, oggi un mini video proprio super brevissimo perché sono pochissime carte, però molto buone, quindi lasciate subito un bel like e iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti perché adesso vi faccio vedere delle carte molto belle, allora, sono arrivate oggi e quindi vediamo subito che carte sono arrivate, allora, vi devo dire un'altra cosa, però mi scordo sempre quindi ve la dico a fine video se mi ricordo, allora, abbiamo, attenzione, trainer full art pokemon breeder di xy, buonanotte, di leggende ridescenti, questa qua era l'ultima full art che mi mancava, adesso manca solamente Mewtwo, GX, Hyper e ho finito tutta l'espansione, cioè, in realtà mi manca pure quello GX nell'incubatrice, solamente che ce l'ha piastato 10 quindi lo calcolo come se ce l'avessi normale, vabbè, insomma, pokemon breeder era la prima carta, ho detto che mi devo sbrigare quindi non posso perdere, la mettiamo qua, poi abbiamo, attenzione, mega charizard ix di generazioni, spettacolare, una che mi mancava e la mettiamo qua, poi abbiamo, alakazam ix secret, 125 di 124, guardate che spettacolo, questa qui già ce l'avevo però, ne ho presa un'altra perché la voglio piassare, troppo bella, anche con umbron nell'artwork, c'era pure un altro pokemon, ah e con l'ugia qua dietro, guardate che spettacolo, tanta roba, lo mettiamo qua, poi abbiamo, attenzione, Blaziken GX Hyper, guardate che spettacolo, tanta roba, eh, questa addirittura è una delle ultime espansioni quindi spettacolare, Blaziken GX quindi subito un bel like per questo Blaziken, so che una persona di voi lo metterà sicuramente, e andiamo con, attenzione, condizioni ovviamente perfette, poi abbiamo, attenzione, cascano tutte, mega tiranitar ix di xy, non mi ricordo che espansione, antico origini o prima o qualcosa, e poi per finire, anzi no, sto paro mega tiranitar l'ho messo lì come se fosse uno schifo, cioè mettiamolo meglio, anche se non si vedrà, comunque, penultima carta, Shiftry, GX Hyper, sempre della stessa espansione di Blaziken GX, e per finire proprio, ultima carta, attenzione, Mega Sheptile EX, spettacolare, e niente, mettiamo qui questo Mega Sheptile per il video di oggi è tutto, spero il video vi sia piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti perché ormai siamo agli sgoccioli ragazzi, adesso stanno arrivando tutti i video che non sono arrivati nei mesi d'estate perché, tipo, avevo finito la memoria, e quindi adesso che l'ho liberata posso fare 500 miliardi di mila video, e quindi niente, like, subscribe, share, e tutto quello che volete.